E' stato ancora il calcio, lo sport scelto a Favara, quale testimonial dell'integrazione tra popoli di diversa etnia e religione. Allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri ieri pomeriggio si è giocata la partita per la pace, la manifestazione sportiva benefica organizzata dai frati minori del locale convento Sant'Antonio in collaborazione con la società Profavara Calcio. Due le squadre in campo, in maglia rossa, una rappresentativa formata dai migranti ospiti della fraternità alla tenda del padre Abramo e dall'associazione Acquarinto con l'aggiunta di qualche giovane talento locale. Capitano e allenatore De Rossi, fra Giuseppe Maggiore e padre guardiano del convento di Favara che è tolto il saio e dopo aver rindossato scarpette e calzoncini, ha giocato alcuni scampoli di partita segnando anche un gol nei minuti finali. In maglia bianca invece la squadra del Favara che ha schierato in campo calciatori che attualmente militano nella squadra locale e le vecchie glorie che hanno fatto la storia calcistica della città dell'agnello pasquale. Il capitano del Favara non poteva essere altro che Nino Di Fatta, l'indimenticato calciatore che negli anni settanta con le sue prodezze entusiasmava la tifoseria locale. Con Di Fatta alla partita per la pace anche i calciatori che hanno calcato i terreni da gioco delle Serie A come Giovanni Sorce e Totovullo. Alla manifestazione non poteva mancare neanche il capitano della profavara Mariano Cordaro che nonostante la poca presenza di pubblico sugli spalti ha evidenziato l'alto valore morale dell'iniziativa. Come tutte le partite di calcio che si rispettino anche quella per la pace ha avuto risultato finale con la vittoria dei bianchi sui rossi per 7 a 5. Ad incorniciare il pomeriggio di sport favarese la premiazione finale con l'assegnazione di coppe e targhe alle squadre partecipanti. La partita interreligiosa per la pace ha aperto ufficialmente a Favara i festeggiamenti promossi in onore di San Francesco che si chiudono domenica prossima. Stamattina coinvolti i bambini delle scuole medie della città con la prima gara polistica. Pomeriggio alle ore 18 la corona francescana e alle 19 la Santa Messa con predicazione di Fra Salvatore Di Bartolo. Ad animare la serata la comunità francescana con lo spettacolo e riflessione il Cantico delle Creature.